bella ragazzi qui è alex z e oggi siamo in un nuovo video su gta online per come livellare velocemente quindi arepi infiniti innanzitutto dopo aver fatto start online attività giugno attività preferiti dovete fare questa attività per l'era beach model che ho creato io la metterò ovviamente in descrizione innanzitutto ringrazio bosskri96 e io e io rappo 02 per aver partecipato al video che sono della mia crew adesso partiamo io vi consiglio di fare questo ditmatch in 16 persone e non come ho fatto io a squadre ma singolarmente perché farete molti più rp in pratica dove c'è un punto dove si entra nel nel muro quindi vi mettete lì a camperare e fate un botto di uccisioni e ogni uccisione a ogni uccisione farete 100 rp poi avrete la serie di uccisioni e quindi ne farete 150 rp e quindi salirete di livello molto velocemente in cui fate sempre rigioca e ve lo rifate sempre quindi è infinito adesso vi faccio vedere il procedimento proseguite andando verso quei cassoni come sto facendo io traversate qui potrebbero stare nemici infatti lo sto uccidendo adesso dovete dovrete girare a destra dopo questo muretto dove c'è la piscina andate su questo muretto qui e mirate per non cadere continuate avanti cliccate quadrato ed entrate in questo muro e adesso tutte le parite di questo muro saranno invisibili potete uccidere di tutto anche sul soffitto però fate attenzione a stare da dove si entra in questo muro perché se vi sparano col bazooka nel punto da cui siete entrati lo scoppio vi arriverà però è rarissimo che succede questa accusa solo se capiscono dove ti trovi perfettamente e da qui potete fare tutte le uccisioni che volete infatti io sto facendo il macello infatti questa attività la vinceremo adesso ho avuto la serie di uccisioni e avrò 150 rp ad uccisione magari fate entrare anche i vostri amici qui così anche loro faranno tantissime re b da qui vi divertite a camperare fate il macello l'unica parte che non trapassa cioè non trapassano i vostri i vostri colpi e i vostri colpi sarebbe dove sto sparando in questo momento sulla parte nera non trapasseranno i colpi neanche col bazooka poi per altri punti trapassa di tutto ragazzi questo era il mio nuovo metodo per fare le più infinite e le più veloci come al solito lasciate un like iscrivetevi al canale condividete il video fatemi delle domande fa sotto che ho scritto chiocciola alex così le risponderò nel blog a 100 iscritti cerchiamo di salire a 100 iscritti non vedo l'ora veramente i ragazzi vi saluto e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti